Ciao da Dove al Sud! Oggi siamo a... Valsinni! Con Daniele e Daniela! Cominciamo la nostra passeggiata nel centro storico di Valsinni e andiamo subito a visitare il castello. Daniela legge le poesie di Isabella Morra. Fermiamo a leggere. Siamo all'ingresso del castello di Isabella Morra. Qui siamo all'esterno e vediamo l'orologio solare. Siamo all'interno del castello. Vediamo le sale visitabili all'interno del castello di Isabella Morra. Troviamo Daniela. In queste stanze viene raccontata la storia di Isabella Morra. Beh, da visitare il castello qui a Valsinni. Ecco le sale. E adesso usciamo dal castello. Siamo usciti dal castello, ma che bella vista che c'è! Ci sono panoramiche, bel vedere, spettacolari. Ci addentriamo nel centro storico. Valsinni è un borgo medievale. Sì, dai, si vede. Guardate che spettacolo questo intreccio di scale. Dai, scendiamo, le facciamo tutte. Sì, sì, sono giusto due scalini da scendere. Andiamo. Qui potete vedere la vecchia insegna del telefono. Andiamo avanti. Qui abbiamo trovato la chiesa madre. Andiamo avanti. La chiesa madre è dedicata a Santa Maria Assunta. Ecco uno scorcio con il castello. Siamo circondati dal verde. Questa è una parte del percorso del parco letterario di Isabella Morra. Ce l'hai fatta. Qui ci verremo in estate per vedere la rappresentazione che fanno, che è molto bella. C'è una passeggiata e ritorniamo nel centro storico. Guarda, che abbiamo trovato qui? Guardate quante galline e galli. Ciao! Siete su Dove al Sud? Salutate galline! Dobbiamo portare da mangiare. Hai portato i semini, Dani? No. Non ho neanche salato. Eccole. Si sono avvicinate. E loro timide. Un primo piano. Abbiamo fatto giusto due passi in salita. Corri, Daniela. No. Non ce la faccio. Che belle queste stradine. Andiamo alla scoperta di Valsini, Dani. Saliamo. Ah, adesso cado. Ecco ancora il centro storico di Valsini. Andiamo avanti. Ogni tanto vediamo un po' il bel vedere, il panorama. È fredda? Questo scorcio è meraviglioso. Abbiamo lasciato il borgo antico, adesso visitiamo il resto del paese. Ciao Valsini, da dove al Sud? Ciao da Daniele e Daniela e la poetessa Isabella Morra. Ciao. Grazie.